Sì, premio alla carriera per il cinema ad Ellen Mirren, questa straordinaria attrice e vincitrice nel 2007 del premio Oscar, che sarà a Pescara il 5 luglio per ricevere il Pegaso d'Oro. Ricominciamo, come abbiamo detto in conferenza stampa, dopo un periodo difficilissimo. E quindi questa presenza ci rasserena, ci dà la voglia di riprendere la vita normale, la normalità della nostra vita, con nuove regole, perché, come sapete, il Flaiano si svolgerà tutto all'aperto, al Teatro Monumento d'Annunzio, per poter agevolare il rispetto della normativa anti-Covid. Un respiro non solo internazionale ai premi, ma anche a Pescara e all'Abruzzo, diciamo che fanno bene al territorio, fanno bene alla pubblicità che il nostro Abruzzo deve avere, perché è una terra straordinaria, anche dal punto di vista culturale. Una stagione importante questa per il Flaiano, anche alla luce di quanto detto dal sindaco di Pescara qualche giorno fa, in occasione di un'altra conferenza stampa, perché l'amministrazione comunale è al lavoro per riportare le spoglie di Ennio Flaiano a Pescara. Sì, è stata un'iniziativa importante quella del sindaco, perché credo che Flaiano meriti tutto questo. Flaiano è stato uno dei più grandi sceneggiatori italiani. E non ci dimentichiamo che probabilmente Fellini senza Flaiano non avrebbe realizzato quei film che poi sono stati anche premi Oscar. E avere qui le spoglie di Flaiano è un ulteriore segnale di quanto questa eccellenza pescarese e abruzzese sia identitaria per la nostra regione, per la nostra città.